Salve a tutti Simmers, benvenuti al mio canale, io sono Marichelle, siamo tornati nella Bachelorette Challenge! Oggi è il giorno di eliminazioni e come potete vedere è tutto molto diverso dal solito, ho allestito questa sala qua come sala di accoglienza post eliminazione, diciamo così, e sì, avverrà tutto in modo molto diverso e un Sim vincerà anche la cena ed è il Sim meno votato da voi, quindi quello preferito vincerà una cena con la nostra Sim. In più qui, in questa stanzetta, i Sim che non sono stati eliminati andranno a rinfrescarsi con una bevanda e a sedersi qui. Quindi, ragazzi, è un metodo molto diverso, non chiamerò ad uno ad uno il Sim parlandogli, offrendogli la rosa, ma si svolgerà in modo diverso anche l'eliminazione stessa. Sarò io che dirò qual è il Sim eliminato e ora vedrete come. Quindi, partiamo subito. I voti si sono divisi, ragazzi, stavolta tantissimo. Tanti volevano che uscisse Antonio, Nicola, Edoardo e così via, avete veramente votato e tantissimo. Questa volta, diciamo, la scelta non si è basata solo su un Sim, quindi è stato molto diverso dalle altre volte, ma siete stati più indecisi, diciamo così. Quindi, la prima persona che non uscirà dalla casa è Antonio, Antonio non esce, ragazzi, dalla casa. No, l'Antonio rimane e non è stato eliminato, non è lui, quindi fai il baciamano. Salve Antonio, tu resti. Lei qui li accoglie e interagisce un pochino con loro e si complimentati. Si complimentati. Si complimenta. Magari stringilo, perché sono abbastanza emozionati, direi. Stringilo. Abbraccialo. In questa location così romantica. Con la musica romantica. Va bene, Antonio, tu puoi andare qua e servire magari una limonata. Esatto. Mixa una bella limonata per tutti quanti. Magari spegniamo la luce principale. Ok, lasciamo a lume di candela, ragazzi. Spero si veda bene e non sia troppo buio, ma mi piace di più e rende tutto molto più romantico. Ora chiamiamo la seconda persona non eliminata, la seconda persona che non uscirà dalla casa. La seconda persona, ragazzi, che non uscirà dalla casa è... Nicola. Nicola non esce dalla casa. Ecco qui Nicola. Ciao Nicola. Ragazzi, in tanti l'avete votato, ma nemmeno lui. Non è nemmeno lui, ragazzi. Quindi, direi che ci sta un bel stringi. Oh, lui stava andando a sedersi, che carino. Complimenti, sei rimasto. Complimenti, complimenti, veramente. Complimenti per l'aspetto. Impara a conoscere. Parliamogli un po'. E lui, come vedete, è molto, molto contento, molto felice. Magari tu intanto, grazie. Prenditi da bere, bevi e siediti. E anche Nicola può andare a prendersi da bere e a sedersi. Complimenti, Nicola, che è rimasto. Infine, l'ultima persona che non se ne andrà dalla casa è... Chi, 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 ragazzi? Tra Edoardo e Jacopo. Chi non se ne andrà dalla casa? È una sfida ardua. Lei lo pensa sempre. Pensa sempre a lui, ragazzi. Pensa sempre a Edoardo. Cosa facciamo? Però no. La persona che non se ne va è Jacopo. Jacopo, tu non te ne vai. Complimenti, complimenti, complimenti. Oh, bravissimo Jacopo. Stringilo. Tanto non vorrei che arrivasse qualcuno, infatti. Giusto per creare danno? Benissimo. Oh, benissimo. Benissimo. Io gli ho tolto l'autonomia apposta e invece questi... Ok. E intanto applaudono, va bene. Vabbè, uno screzio con Nicola, che non doveva vedere la scena, in teoria, ma... Intanto qui stanno parlando avvabilmente. Discussi gli interessi. E Jacopo, ragazzi, è stato il meno votato. Ha avuto un solo voto. Quindi lui merita intanto il bacio, prima di tutto. Ed è lui, ragazzi, che vince la cena. Ecco qui, fatevi una foto. Intanto Jacopo, vai a sederti qui. Jacopo non va nell'altra sala, ragazzi, ma si va a sedere. Perché ce n'erà con la nostra sim. E ora come dire a Edoardo che è lui l'eliminato. Edoardo, sei tu l'eliminato. Ci dispiace tantissimo. Sei stato il più votato in assoluto. Intanto complimentiamoci per come si è vestito. Rallegriamolo un attimo. Che era veramente molto, molto agitato. Lui si è già seduto perché ha già capito, ragazzi. Ha già capito. Lei non ha fatto interazioni romantiche. Quindi abbraccialo. Vieni, Edoardo. Uh, lei è andata a sedersi direttamente con lui. Non è quello che vogliamo. Ma vai ad abbracciare Edoardo. Ciao, Edoardo. Ciao, tu sei l'eliminato. Ebbene, sì, ragazzi. Eccoci qui. Edoardo se n'è andato. Intanto qui abbiamo dei sim tristi. Lui è triste. E anche lui è triste. Perché è geloso ancora dall'altra volta. Ma ora si rannegrerà sicuramente. Perché ha comunque vinto una cena con lei. Ho già preparato il tutto. E diciamo che stiamo per mangiare una cosa un po' particolare. E' il pan de muerto. Che è uscito col nuovo aggiornamento. Eccolo qua. E vediamo se ha qualche interazione particolare. Vediamo se hanno magari qualche emozione a mangiarlo. Non lo so. Spero non negativa comunque. E intanto potete anche, ragazzi, parlare e flirtare tra di voi. Perché lui ha vinto. Ha vinto per il fatto di essere stato davvero il meno votato. Avete votato tutti tranne lui praticamente. Naturalmente non è che ha vinto la serie. Ha vinto solo per questa volta, diciamo. Poi tutto il resto sarà da vedere. Se la prossima volta voterete, non lo so, di più lui e meno un altro. Allora magari uno di loro vincerà la cena con la nostra sim. Io direi rallegratevi tra di voi. Che comunque siete rimasti, eh, ragazzi. Quindi siete ancora in gioco. Potete ancora vincere. Avanti. Consigliatevi. Intanto lui è flirtante. E quindi, c'è anche la musica, ragazzi. Sentite? Cioè, fantastico. Allora, amoreggia. Un po' troppo, magari. Impara a conoscere, assolutamente sì. Allora. Chiediamogli la sua giornata, magari prima. Magari professa gli amore eterno. Ma che bello. Con questa musica, poi, ragazzi. Guardate qui un po' l'arredamento. Ve lo faccio un po' vedere. Intanto è andato a pulire lui, credo. Guardate tutto che bellino. Vediamo se arriva. Lui la sta aspettando qua. E gli vuole professare amore eterno, ragazzi. Magari non nella stanza con gli altri. Che dite? Magari qui. Oh, che romantico. Complimenti. Davvero complimenti. Chiediamogli se è single. Cosa ne pensa? Vediamo chi pensa a lei, intanto. Uh, lei pensa ad Antonio, ragazzi. Vuole baciare Antonio. Come dicevo, lei è molto, molto attratta ad Antonio. Comunque lui va bene, è single. Giustamente sono tutti single. Fantastico, ragazzi. Quindi, lui è stato veramente il meno votato di tutti tra di voi. E, ehm, è una cosa molto carina. Ho pensato di fare questa cosa carina perché se l'è comunque quantomeno meritata, soprattutto dopo essere stato, insomma, così triste per la nostra sim. Impara a conoscere, la vuole imparare a conoscere. Ok, avete mangiato? Mi pare che il panda è muerto non ha dato nessuna emozione ai nostri sim. No, piatto delizioso, quindi tranquillamente. Benissimo. Loro intanto si stanno rallegrando, stanno bene, sanno che sono ancora in gioco e hanno tutte le possibilità di vincere, ragazzi. Dipende da voi e dipende anche da Ellie, soprattutto direi da Ellie. Perché vedremo come andranno le prossime sfide, come andranno le prossime interazioni tra di loro. Intanto io direi che lei può soddisfare il suo desiderio. Magari con Antonio azioni, aggiunge al gruppo. Diciamo che se lei gli vuole dare un bacio, è giusto che sia così. Quindi andate magari un pochino in giardino. E il bacio glielo puoi dare, se vuoi. Ovviamente se c'è l'interazione. Sì, un bel bacio appassionato. Va bene, bacialo. Oh, ecco qua. E direi che anche lui si merita qualcosa, vediamo. Lui vuole ammirare le stelle con lei. Quindi va benissimo. In effetti è quello con la relazione più bassa, ragazzi. Però vai ad ammirare le stelle con lei. Intanto tu, anche tu, ti prendi una bella limonata. Bevi. E siediti. E tu ti vai a sedere. Oh, qui ci sono piatti sporchi in giro. Mi sembra molto giusto. Dai, potete mettervi qui. E benissimo, ragazzi. Ok, ragazzi. La puntata è stata, credo, cortina. Ma io la chiuderei qui. Perché oggi è solo giorno di eliminazioni alla fin fine. Ora sono tutti di umore molto migliore, direi. Edoardo è uscito. E' stata una scelta ardua. Io mi sono basata sul numero delle vostre votazioni. Diciamo che avete votato più Edoardo per la maggioranza. Ma avete votato tanto anche Antonio e Nicola. Comunque ora sono tutti e tre in gioco. Il cerchio, ragazzi, si stringe. E dovrete valutare bene cosa accadrà nelle prossime puntate. Non fate scelta avventate. Non fate scelta frettate. Sono tutti e tre in gioco. Vediamo come la nostra sim interagisce con tutti loro. Vediamo a chi pensa di più. Vediamo con chi si relaziona meglio. Non è detto che debba vincere per forza Jacopo. Come non è detto che debba vincere per forza Antonio o Nicola. Sono tutti e tre in gioco. Voi prendetela così. Guardate bene cosa accade nelle prossime puntate. Detto questo, direi che noi ci possiamo fermare qua. Mettete un bel like se vi vi è piaciuto. Lasciate un commento. Iscrivetevi al canale. Anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!